musica 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 questa c'ha i fioletti non vanno non so combinato mai con Tu fai fare le orecchie? Occhio! Sì! Il cacciame è finito, se il pane non ti piace... Sì, puoi scogliere la papilla! Sì! Sì, ho fatto! Sto facendo! Se c'è un po' di salato... Dov'è? Dov'è? Dov'è che passa le macchine? Non c'è andare! Non c'è andare di qua, dai! Passa le macchine, non c'è andare! No, no! Il formaggio non lo mangia! Non c'è andare di qua, eh! Se no fai una brutta fine! Come deve essere animali salvatici, come già! Avvicinarsi alle persone! Piccolina! Tutti manano la macchina! È un'attrazione... Cioè, è una cosa... È difficile trovarlo! Noi hanno scorso, c'era un bicchiere... Lei vedeva il bicchiere... Pensava che era... Vado a mangiare! Vado a bere dentro il bicchiere! Ma dai! Vado via! Vado via! Vado via! Vado via! Vado via! Vado via! Eh va a bere, li c'è l'acqua, hai capito, c'è un po'... Grazie.